Buongiorno, benvenuti all'ora della salute. Oggi ci occupiamo di tecnologia, di come la doperiamo nella nostra vita quotidiana. Sicuramente siamo molto social, amiamo molto internet e utilizziamo molto lo smartphone, ma come le utilizziamo? In modo dannoso o in modo virtuoso? Lo scopriremo in questo nostro approfondimento, ma adesso vediamo come Letizia Paternoster, la grande ciclista, la campionessa, usa i social. Ad allenarmi passo abbastanza tempo, diciamo che è molto importante l'allenamento, soprattutto nella categoria professionistica. È l'unico modo che hai per crescere, per formare il tuo corpo, l'allenamento, quindi è molto importante. I social sono un po' uno svago, un momento... non conto il tempo che passo sui social, perché mi viene una cosa talmente naturale. Il rapporto che ho con i social è molto diretto con le persone, mi piace trasmettere la mia vita e quello che faccio in giornata, soprattutto ai tifosi, comunque magari riescono a capire meglio la vita che una sportiva svolge. I social che uso maggiormente è sicuramente Instagram e tramite le mie stories e un po' i post che pubblico cerco di trasmettere il più possibile di quello che faccio. La tecnologia è molto importante per gli allenamenti, perché hai un quadro della situazione tua, hai tutti i valori del tuo fisico, quindi i battiti, la potenza, la frequenza e in base a quello riesci a calibrare l'allenamento. Ad un adolescente che vuole intraprendere un'attività agonistica, consiglio sui social di essere se stessi e di trasmettere quello che di più bello il proprio sport gli dà per avvicinare comunque i tifosi o le persone che non conoscono ancora bene i sacrifici che fa durante gli allenamenti, durante la propria vita e per far appassionare anche altre persone a quello sport. Bellissima questa nostra ciclista, la bella campionessa del mondo Juniors a squadre nel 2016, campionessa europea di ciclismo. Insomma, un rapporto molto sano che condivido con i miei ospiti, Matteo Lancini, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro e docente all'Università di Milano Bicocca e Marina Ruspa, ginecologa del Centro di riferimento di assistenza per i problemi della violenza alle donne, Fondazione IRCS Cagranda, ospedale maggiore policlinico di Milano. È un grande piacere avervi qui perché dobbiamo parlare di tecnologia, è entrata nelle nostre vite, siamo molto felici anche che sia entrata. Lancini mi sta sorridendo, quindi credo che condivida anche questo punto di vista di essere in relazione con i media, come fa la nostra Letizia. Beh, oggi tutti pubblicano la propria vita privata, immaginiamo una campionessa che è spesso in giro e che ha qualcosa anche da raccontare, certamente oggi si cresce spesso distanti col corpo ma sempre in contatto attraverso questi nuovi social che ormai nuovi non sono più e che si sono così diffusi. Però mi dà lo spunto subito per entrare in argomento e fare una definizione, chi siamo oggi? Siamo persone che si espongono, perché si espongono? Abbiamo questo bisogno di popolarità, di essere al centro dell'attenzione. Siamo davvero un popolo di narcisisti così convinti e felici? Beh, è una società dove il sé è stato sdoganato, forse anche all'eccesso rispetto anche a vecchi modelli educativi. Certamente oggi la vita reale, la vita virtuale si mischiano e conti se vivi nella mente dell'altro, se sei rispecchiato. Questo molto spesso è attribuito e certamente internet ha contribuito a ciò. Non dimentichiamo che ci sono stati anche modelli educativi nuovi e molte modalità dove, diciamo, l'espressione del bambino è stata favorita sin dalla primissima infanzia. Mi faccia essere anche un po' amara, però se serve. Si perde questa dimensione intima in questo nostro mondo, in questa modernità, secondo lei? Questo è uno degli aspetti che a me preoccupa di più. Dov'è il confine tra ciò che una volta noi consideravamo intimo, privato, spazio al limite condiviso con una persona e ciò che è pubblico. Viene utilizzato un termine molto forte, ma secondo me da tenere in considerazione, che è pornografizzazione della società. Per dire che oggi il tema non è solo quello della pornografia, che ci preoccupa rispetto all'educazione dei giovani, ma è che tutto è reso pubblico. Si parla addirittura della pornografizzazione del cibo. Sa lei meglio di me che a volte ai ristoranti una volta si fotografavano piatti esotici, qualsiasi pasta è fotografata e mandata in giro in rete. Esisti se pubblichi quello che stai facendo. Poi in qualche modo dobbiamo anche costruire modelli virtuosi, tecnologici, ma modelli anche meno aggressivi, meno pericolosi nei modi, nelle modalità e faccio entrare a gamba tesa Marina Ruspa nella nostra discussione perché essendo una persona che si occupa di problemi della violenza alle donne avrà cose da raccontare e da riferire. Vorrei però prendere spunto proprio da questo sondaggio condotto da Amnesty International in collaborazione con la DOCS. A me lo vuole un po' sintetizzare, avremo anche una grafica che ci può aiutare a raccontare che cosa succede perché è un sondaggio sulle discriminazioni di fatto. Sì, è un sondaggio sulle discriminazioni che pone come il 33%, cioè una donna, una ragazza su tre subisce abusi e molestie online ogni giorno. In realtà una donna su tre ha subito nel corso della sua vita una vera e propria violenza sessuale. Qui parliamo online e quindi il numero comunque delle donne o delle ragazze che subisce molestie anche online è alto. Parlo soprattutto di donne e ragazze perché si è visto che sono le principali vittime anche di questi insulti, campagne di odio online. Sì, certo. Uso anche dei social per denigrare, spersonalizzare una persona e spesso sulle donne e sulle ragazze viene fatto attraverso modelli un po' sessisti e vengono presi di mira proprio sulle caratteristiche sessuali con insulti. Però dottoressa, sicuramente stiamo parlando, stiamo fotografando una parte, diciamo quella più brutta, quella che non vorremmo mai raccontare, che sta producendo questa interazione social. c'è anche tutto l'aspetto virtuoso magari delle relazioni. Io vorrei capire come però, che cosa sta succedendo, come vengono utilizzati, perché c'è quest'odio, questo eccesso di violenza, di rancore. Che modelli stiamo proponendo ai nostri giovani? Ma è la difficoltà anche rispetto alle donne ad accettare un nuovo ruolo e non più il ruolo classico. C'è tutto un retro sociologico che in qualche modo dobbiamo sintetizzare, me ne rendo conto perfettamente. Esatto, e come attraverso la rete, attraverso anche l'anonimità del fatto di poter mettere un messaggio in rete, si tirano fuori le parti peggiori, in cui la donna viene rimessa in un ruolo subalterno, di oggetto sessuale, di oggetto debole. Però secondo lei questa velocità con cui si fa un tweet, per esempio, e si incita all'odio, non è fine a se stessa oppure sta producendo veramente qualcosa di distorto e di sbagliato? Poi ne voglio parlare con Lancini, voglio capire, bilanciare il racconto sotto tutti i punti di vista. Io credo che possa produrre qualcosa di distorto e di sbagliato, soprattutto penso, chiaramente noi abbiamo un osservatorio di casi più gravi e dei casi che arrivano ad avere delle ripercussioni anche gravi, perché soprattutto le giovani ragazze che vengono rese oggetto di questi insulti in rete, cioè da una parte queste ragazze usano moltissimo i social spesso per uscire dall'isolamento, spesso le reti di amici, spesso queste reti di conoscenze, di contatti virtuali sopperiscono invece a una rete reale di relazioni. Una rete reale che invece dovremmo in qualche modo supportare e anche favorire, vero Lancini? Perché noi abbiamo bisogno di incontrarci, di guardarci negli occhi, c'è questo limite, questo confine che dobbiamo imparare a visualizzare tra realtà e finzione. Ma io penso che oggi i giovani, anche per i nostri modelli educativi e per l'allarme sociale che abbiamo promosso rispetto al fatto che il mondo fuori, quello in carne e ossa è pericoloso, abbiano come dire utilizzato moltissimo la rete anche per questo, cioè oggi la virtualizzazione delle relazioni, del gioco, è diventata un'esigenza davanti a un mondo molto pericoloso e quindi spostandosi in rete molti dei comportamenti che una volta non dimentichiamo avvenivano anche fuori da scuola quando tornavi da solo già dai tempi dell'elementario, nei famosi cortili e giardini chiusi prima nelle metropoli e in ogni città, ha fatto sì che tutte le relazioni oggi si spostino in rete. Quindi oggi il problema è che educare al digitale o alla rete i giovani è come educare alla vita, non è che sono due aspetti differenti, lì dentro si è spostato tutto. Però ci sono una serie di addiction che stanno crescendo in questo momento, in questo nostro tempo e dobbiamo anche intercettare il bisogno di aiuto perché i ragazzi lanciano anche dei messaggi d'aiuto, vero Ancini? Lo fanno spesso? Beh, certamente, cioè certamente il fatto di dipendere così tanto dallo sguardo di ritorno degli altri e dalla relazione con gli altri spinge a delle esperienze in cui poi la rete diventa l'ambiente all'interno del quale ti rifugi, dal quale dipende quasi la costruzione della tua identità. Poi lei tra l'altro racconta spesso di un ragazzo più isolato che è esposto alle amicizie e alle relazioni sociali, è davvero questo il nuovo modello dei giovani? Ebbè certo, il tema dei ritirati sociali, i famosi kikomori giapponesi che sono arrivati in Italia anche da noi, che è un'estremizzazione però è realtà il libro. Si interessa enormemente perché è la fine della vita reale, è un rifugio nella vita virtuale. E in queste camere, dottoressa Ruspa, ci si chiude il proprio mondo, si cercano esperienze, si cerca anche un amore, un amore però che molto spesso non è sano. Qual è la sua visione? Perché c'è anche tutta la parte di questa esperienza sessuale estrema, pornografica quasi, che sta diventando un problema di cui occuparci. Sì certo, soprattutto appunto nelle giovanissime, il fatto di mettere in rete, di rivelare degli aspetti anche molto intimi di sé e anche delle immagini molto intime di sé, atteggiamenti anche sessuali, pensando in questo modo che tanto è qualcosa di lontano, di cui non si misurano immediatamente le conseguenze. Spesso vengono poi postate queste immagini al ragazzo, al partner, pensando di essere all'interno di una relazione di fiducia, di una relazione però lei sta descrivendo un'ingenuità che insomma esiste sicuramente, ma c'è anche un desiderio di misurarsi con cose più grandi, anche una provocazione, un bisogno, quella la dobbiamo raccontare però. Anche di apparire disinibite, belle, eccetera, per rispondere un po' a quelli che sembrano essere le immagini che poi, il problema che poi spesso appunto queste immagini vengono divulgate in rete, se ne perde il controllo e diventa estremamente… No, e tra l'altro restano in rete lancini, perché tutta c'è una memoria di rete che purtroppo restituisce al tempo anche degli errori a volte commessi. Certo, come sottolineava quel sondaggio poi la conseguenza è che poi c'è un maggior isolamento, nel senso che poi usano meno i social, si isolano ancora di più, si vergognano, si sentono in colpa perché in qualche modo si ritengono responsabili anche di quello che stanno subendo e fanno anche fatica a chiedere aiuto a questo punto. E questo è il tema del sexting in effetti, perché il sexting è una modalità in cui alcune ragazze, poi certamente alcune non hanno in mente le conseguenze, ma molte ragazze che abbiamo incontrato in questi anni è quasi un'esigenza davanti a una sensazione di inadeguatezza, di vergogna, di non sentirsi sufficientemente preziose e belle che le spinge a compiere questa azione, quella che noi chiamiamo una sorta di fantasia di recupero maturativo che poi invece ha delle conseguenze terribili, inondare la rete delle parti del tuo corpo che tu ritieni più belle, questo è un problema in effetti. Un ruso irresponsabile diciamo del porno, che cosa produce? Poi in qualche modo le persone restinguono la sessualità, ne hanno un cattivo rapporto perché sa, il sesso è una cosa bella e noi lo dobbiamo imparare, noi come generazione dobbiamo insegnare ai nostri figli che in fondo è un tutt'uno con l'amore e quindi è anche una parte importante di cui discutere, invece che cosa diventa? Certamente la sovresposizione come dire di immagini dove più che la relazione affettiva insieme alla sessualità sembrano a volte un atletismo, una prestazione con anche ovviamente scene molto violente caratterizza sicuramente i modelli educativi di anni, io credo con due conseguenze, da una parte poi lì dipende dal funzionamento del singolo ragazzo o del giovane adulto, chi poi entra in una relazione compulsiva appunto, la cyber sex addiction dentro queste relazioni sessuali e via, e dall'altra invece forse anche una abituazione, mi viene da dire che fa sì che oggi molti ragazzi vengano nei nostri centri e non intendano parlare del sesso, io credo che questa sia una novità da avere in considerazione quasi che il tema che ha riguardato intere generazioni, forse anche perché è tabù l'adolescenza, sta come perdendo quell'interesse nella mente delle nuove generazioni. Cioè lei sta dicendo che io e lei tra cinque anni di questo argomento parleremo, io farò altro tipo di manti, perché i ragazzi non cercano più diciamo l'incontro sessuale, mi sembra questa. Anche fra due anni. Anche fra due anni. Allora io vorrei che lei lanciasse, dottoressa, adesso fa proprio un messaggio perché lei fa un lavoro importante, un lavoro purtroppo di grande attualità, un lavoro sulla quale i media, l'informazione può fare molto. Un messaggio significa di sensibilità, cioè di attenzione e di rispetto, quella parola meravigliosa di cui dobbiamo sempre parlare. Innanzitutto l'educazione ha rispetto, cioè fin da bambini, ha rispetto nelle relazioni. Un dato che dobbiamo acquisire anche in un programma di medicina che si occupa di salute perché fa parte proprio delle relazioni interpersonali, dobbiamo imparare e costruire il nuovo rispetto delle parti. Ai media ha anche il fatto di essere attenti molto al tipo di ruolo e al tipo di immagine della donna che rimandano. Perché finché viene rimandata un'immagine di donna debole, comunque di oggetto sessuale, tuttora è ovvio che questo poi può produrre e conseguentemente. E ai ragazzi forse di imparare a tutelare più la loro privacy. È vero, Lancini, tutelare, perché proteggere e proteggersi è molto importante. È importantissimo che gli adulti non vadano solo verso il divieto, che forse è un errore che abbiamo fatto in questi anni, solo il controllo. Arrivati in adolescenza dobbiamo aver costruito un modello educativo che spinga i ragazzi a prendersi cura di sé e a rifiutare esperienze antievolutive piuttosto che quelle che li fanno avanzare nella crescita. Io ringrazio tantissimo i miei ospiti, è stato molto utile e interessante parlare con voi. Adesso abbiamo un break pubblicitario perché poi giriamo proprio il rovescio della medaglia. Parliamo d'altro, tra poco. Bentornati all'ora della salute, ci stiamo occupando oggi di tecnologia, abbiamo già esaminato degli aspetti virtuosi e non solo, ma adesso invece parliamo sicuramente di un aspetto entusiasmante, mettiamola così, di come può essere d'aiuto la tecnologia in materia di salute. Lo facciamo con due ospiti, il professor Santoro, responsabile del laboratorio di informatica medica, dipartimento di salute pubblica dell'Istituto Mario Negri di Milano e poi abbiamo Luigi Lavornia, neurologo, Università Luigi San Bambitelli di Napoli, coordinatore del gruppo di studio digitale della Società Italiana di Neurologia. Benvenuti, è un grande piacere avervi qui con noi per discutere di tecnologia, però noi siamo andati subito fuori in mezzo alla gente e abbiamo chiesto, il professor Santoro, poi la giro lei questa domanda, che cos'è la telemedicina? Vogliamo sentire che cosa hanno risposto? Sono curioso. La telemedicina non ho la minima idea di cosa sia. Imparare la medicina dalla televisione, immagino, quindi da fonti non proprio attendibili. Penso sia qualcosa che ha a che vedere, diciamo, con delle trasmissioni televisive però. telemedicina, sì, vabbè, quello con via internet, i dottori fanno le conferenze, se no addirittura possano fare degli interventi e quindi telemedicina anche da noi ci siamo, sì. Allora, mescoliamo un po' tutte le risposte, professor Santoro, e troviamo quella giusta, prego. Beh, intanto molto simpatiche le risposte. Sì, quella, insomma, della medicina della televisione la trovo molto pertinente, tra l'altro, telemedicina, è così? Ci sta. In realtà non è così, perché appunto la telemedicina è quell'insieme di tecniche mediche e informatiche che permettono di fruire a distanza attraverso, per esempio, il web o attraverso gli smartphone di servizi sanitari. Si parte da servizi di telemedicina base, come per esempio la prenotazione di esami o di prestazioni sanitarie presso un ospedale, allo scaricamento dei referti medici, fino invece a cose molto più avanzate, come per esempio il monitoraggio a casa di pazienti che soffrono di malattie croniche, pensiamo per esempio al diabete, allo scompenso cardiaco, all'ipertensione, o addirittura a servizi che consentono di fare riabilitazione a casa. Lei col suo gruppo di studio fa tante sperimentazioni, tante, diciamo, tante osservazioni di vario tipo. Quale vuole portare alla nostra attenzione? Prima parlavamo di un ASL, vogliamo condividerla con le persone che stanno ascoltando? Certo, uno degli aspetti legati all'impiego della telemedicina è quanto questi servizi sono messi a disposizione, e io farei rientrare attraverso questi servizi anche per esempio la presenza delle istituzioni sui canali social, che oggi come sappiamo sono quelli più ampiamente utilizzati per informarsi. Noi abbiamo recentemente condotto un'indagine sulle 102 ASL italiane per vedere quanto usano e come usano i loro canali social, abbiamo scoperto per esempio che 6 su 10 sono presenti su almeno una piattaforma di social media, che sono utilizzati prevalentemente Facebook, YouTube e Twitter, ma che la comunicazione che fanno è una comunicazione che è orientata più alla comunicazione istituzionale, quindi raccontare quello che fanno istituzionalmente. Poco ha a che fare con un concetto legato alla promozione della salute oppure a comunicare una serie di messaggi che presentano poi il concetto di prevenzione, che è un po' quello il modo in cui vengono utilizzati per esempio negli Stati Uniti. Comunque è cambiato tutto, è cambiato il linguaggio, dobbiamo cambiare anche noi, ci dobbiamo adeguare. E' così Lavorna? Io devo fotografare il nostro tempo, lei mi deve aiutare. A che punto siamo? Il lavoro è grande quello che state facendo, però è veramente molto interessante. Sì, il lavoro è grande ma c'è una grande efficienza del digitale, dimostrata già in alcuni lavori scientifici ormai abbastanza noti nel nostro mondo e che deve essere un po' diffuso, nel senso che il digitale che si declina soprattutto nell'applicazione di patologie importanti nell'uso dei social network a scopo proprio divulgativo e di comunicazione è una fonte importante da parte del medico e un osservatorio, perché sui social network ti accorgi un po' di quegli unmet needs, cioè di quei bisogni dei pazienti che sfuggono un po' dalla convinzione del rapporto medico-paziente basato sull'incontro in ambulatorio. Sull'incontro, sulla cura, sull'ascolto, il tempo. Sì, assolutamente. Ci sono degli aspetti di alcune patologie che vengono un po' sottovalutati in quell'incontro convenzionale che il web invece intercetta. Non so, la vita sessuale. È molto più facile parlarne del web dove c'è la nominata. C'è un pudore che viene meno e anche poi, adesso ne vediamo, vediamo una cosa molto interessante proprio sulla depressione tra qualche istante, però io ci tengo Santoro a capire, tutto questo si sta trasformando, ci dobbiamo trasformare noi, dobbiamo essere sicuramente collaborativi e competenti e i medici? E i medici quanto devono cambiare? Come deve cambiare proprio la loro preparazione? Certamente, partendo già dall'università è necessario che trovino posto dei corsi rivolti alla digital health, di cui oggi non se ne parla affatto, oltre all'impiego, è una serie di servizi che consentono al medico, per esempio, di aggiornarsi utilizzando i social media da una parte e utilizzando le applicazioni dall'altra. Bisogna cercare il più possibile di riuscire a ingaggiare, si usa questo termine, di coinvolgere il paziente utilizzando il più possibile, appunto, gli strumenti che oggi i pazienti sono abituati ad utilizzare. Allora, vi faccio vedere, lo faccio vedere soprattutto a tutti i nostri telespettatori, anche a voi, lo condivido molto volentieri, all'interno di un'ASL c'è una consulenza via web, sicuramente molto virtuosa, ma stiamo parlando dell'ASL di Torino che parla e racconta di depressione, che è un tema molto importante, anche non discusso troppo. La depressione sarà una delle principali patologie dei prossimi anni e quindi per poter trattare tante persone che saranno e saranno affette è stato previsto di inserire degli strumenti di tecnologia sanitaria quali le videoconferenze e il trattamento psicoterapeutico via web. Così da supportare i trattamenti tradizionali basati sul face-to-face con strumenti, appunto, di telemedicina. Complessivamente il progetto pilota ha trattato circa 11.000 pazienti ed è stato dimostrato che il 45% dei pazienti hanno avuto un miglioramento nei sintomi depressivi. I medici di generale hanno inviato i pazienti ai centri di salute mentale dove una psicologa addestrata per la terapia cognitivo-comportamentale faceva una prima intervista e dava la password e l'ID per entrare nel sistema I-Fi Depression. In modo tale che possa, in maniera assolutamente libera e autonoma, da qualunque posto e in qualunque orario, accedere a questo strumento, a questa piattaforma online, inserendo le proprie credenziali e passando attraverso i vari moduli che caratterizzano questo strumento. Il paziente però aveva la possibilità di contattare via mail la psicologa qualora avesse delle difficoltà. Questo è un aspetto che è risultato apprezzato soprattutto nei pazienti, diciamo, italiani. Comunque il contatto ancora con il terapeuta durante il trattamento è importante. Io credo che sia l'informazione soprattutto dei professionisti che deve essere, su cui dobbiamo puntare. L'esperienza che abbiamo avuto è che pazienti che hanno fatto il trattamento, che hanno avuto beneficio, sono poi passati a fare una psicoterapia vera e propria perché hanno proprio scoperto una dimensione di introspezione che prima non avevano. Ci tengo molto al vostro parere. La voglia però la voglio portare subito sull'uso delle community online e dei social media perché so che lei ha un progetto a cui tiene particolarmente e che ci interessa anche conoscere proprio perché racconta di una malattia complessa. Vuole raccontarlo lei? Da questo video infatti mi viene in mente la prima cosa che quanto è importante, per esempio, un supporto da un punto di vista psicoterapico in pazienti che hanno una disabilità. Quindi con difficoltà a raggiungere i centri, gli ospedali. Quindi pensiamo a quanto si può veramente sostenere da quel punto di vista un paziente con una patologia cronica che si porta indietro per tutta la vita. Poi che questo paziente è giovane. Ecco, un paziente è giovane che è più portato naturalmente verso l'uso appunto del mondo digitale e questo appunto si congiunge proprio con la mia esperienza. Io dal 2012 ho fondato e insomma mi occupo di una community che ormai ha messo in contatto 14.000 pazienti affetti da una patologia che è la sclerosi multipla, una patologia che viene diagnosticata in soggetti giovani e quindi i nostri soggetti giovani adesso sono i millennials che sono dei nativi digitali e come tali hanno la propria vita nel proprio smartphone e se hanno un problema di salute vogliono anche la risoluzione del proprio problema di salute. Quindi l'ascolto delle conversazioni dei pazienti, che cosa è cambiato? Cosa legge lei di nuovo ed è interessante da comunicare? Di nuovo è interessante da comunicare la partecipazione degli healthcare professional, delle figure professionali legate alla medicina all'interno delle community online perché solo quello può garantire un rigore scientifico, solo quello può garantire che non ci sia diffusione di fake news. Quindi si risponde meglio anche alle loro domande di informazione, le domande quelle banali, quelle che magari non si riescono a fare. Noi siamo usciti da un racconto sulla depressione, che è una malattia che porta con sé anche uno stigma, un bisogno anche di non parlarne. Ecco, questo favorisce secondo lei, allarga, restituisce anche una dimensione narrativa nuova? Assolutamente sì. Poi voglio sapere la sua opinione, Santora. Assolutamente sì, per esempio in uno studio che ho fatto sulla mia community c'erano le social interaction che venivano molto molto migliorate da parte. Migliorate, e per questo dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare di tutto quello che ci può migliorare, Santora. Lei è un po' il padre di tutto questo, ci sta raccontando da anni quante cose si possono fare. Cosa dobbiamo fare domani? Cosa dobbiamo fare domani? Uno degli aspetti su cui secondo me la tecnologia ci può aiutare molto è il concetto di prevenzione. Questo è giusto. Perché abbiamo già parlato troppo, noi soprattutto, nella comunicazione. L'assistenza è un aspetto importante, ma ancora importante, e se ne parla troppo poco in Italia, è l'aspetto legato alla prevenzione. E quella tecnologia ci può venire in aiuto. Penso per esempio a quelle futuristiche, anche se in alcuni casi esistono già applicazioni che consentono di raccogliere in automatico dati attraverso i sensori di cui sono dotati, attraverso i braccialetti intelligenti, una volta verificata ovviamente la loro affidabilità. E che siano in qualche modo funzionali e utilizzati insieme a sotto l'intelligenza artificiale, di cui si sta cominciando a parlare. E che consentono fondamentalmente di individuare i pazienti che sono a rischio di incorrere in determinate malattie. E allora in quel caso suggerire a queste persone di andare a fare dei controlli dal medico in modo tale da anticipare i tempi di una. Quindi in ambito di prevenzione sicuramente. L'applicazione del futuro per lei e per Santoro. Sentiamo Lavornia, qual è il suo augurio? Perché lei è un uomo molto dinamico, sta guardando già oltre. L'applicazione deve essere integrata rispetto a un rapporto medico-paziente convenzionale. non deve essere sostituita. Non sostituita, mi raccomando l'empatia. Quella salva il mondo. Santoro? Assolutamente. In una battuta, un'applicazione che consente di sfruttare al massimo il concetto delle community di cui abbiamo parlato adesso è tutto supervisionato sempre dal medico che deve essere o comunque da un operatore sanitario che è il principale artefice della salute del paziente. Grazie davvero ai miei ospiti. È stato utilissimo parlare con voi, ci siamo proiettati verso il futuro. Adesso ci teniamo la nostra tecnologia molto cara. Infatti adesso ne parlo perché ricordo agli ascoltatori e ai telespettatori della Sette che noi abbiamo un sito www.lasette.it slash l'oradellasalute dove ritrovate tutte le nostre puntate e andate in onda. Lo devo dire, c'è anche una community, in realtà c'è un hashtag che è l'oradellasalute dove ci ritrovate sui social. Anche noi ci siamo perché l'ora della salute è sempre. Arrivederci. Grazie per averci seguito e grazie davvero per questa bella puntata. Grazie a te. Grazie a te.